Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Guardate che cappelli che mi sono venuti fuori. Asciugandoli con il phon. Vabbè, mi viene fuori questa testa qua, comunque. È lo stesso, veniamo a noi. Siamo stati domenica a Vicenza, per chi è comunque in zona, da queste parti, tra Verona, Vicenza, e nelle vicinanze c'è il DM, eccolo qui, in corso Palladio 41. Praticamente noi siamo arrivati in treno, perché non avevamo voglia di muovere la macchina. Da Verona sono 10 euro andate in ritorno, sono 34 minuti, noi siamo partiti da Porta Vescovo, perché a Verona ci sono due stazioni, c'è Porta Vescovo e Porta Nuova. Porta Vescovo è la più vicina per la direzione Vicenza, perché è il treno che va fino a Venezia-Santa Lucia. Quindi 10 euro andate in ritorno a Tessa, regionale, ma sono 34 minuti, e se no c'è anche il freccia rossa, ma costava 40 euro a Tessa quasi, non valeva la pena per mezz'ora di viaggio. Se no in quel caso lì era molto più conveniente la macchina, vero? Solo che noi non avevamo proprio voglia di guidare. Mi hanno detto andiamo in treno, facciamo un prezzo, facciamo un giretto, praticamente come voi arrivate dalla stazione, prendete il corso principale che trovate, voi avete la stazione, proseguite dritto e siete già praticamente in centro. 5 minuti a piedi siete già in centro e al posto di dove c'era Zara una volta, così almeno ci hanno detto la commessa, hanno aperto DM su due piani, quindi comunque un bel po' di roba. L'unica cosa che io pensavo di trovare un po' di più riguarda la parte delle tisane, secondo me a Brunico ce ne erano molte di più che non fa a Vicenza, però non le conoscevo e di conseguenza non avevo preso niente. Però vabbè. Allora, intanto saluto Maria che mi ha chiesto se la potevo salutare nei video prossimi, quindi ecco, un bacione e cominciamo. Cominciamo. Ah, tra le altre c'erano anche i mercatini di Natale e ho preso, vi faccio vedere prima di iniziare lo spesone al DM, ho preso delle confezioni di miele per Natale, per fare i regalini, mio nonno poi ne mangia una quantità industriale, questo qui è da 7,50 euro ed è, scusate se vi faccio vedere il bigliettino storto, siamo a posto, e poi li ho presi da 2 euro, ne ho presi 3, così piccolini, sono miele di millefiori da 125 grammi che devo fare dei pensierini, sono proprio freschi, fatti proprio in maniera naturale, c'era proprio il signore che faceva l'apicoltore, tiene, quindi è proprio lì di Vicenza, chiuso a parentesi. Cominciamo con il clou delle cose. Allora, le tisane le voglio tenere per ultime, quindi, mamma mia che profumo che viene fuori. Allora, scusate, devo prendere delle robe che mi sono dimenticato, eccomi qua, però ho deciso di seguire proprio per filo lo scontrino, quindi proprio il primo era una cosa che avevo messo via, e si tratta del bottiglione di detersivo per la biancheria, insomma, per i panni. Ho voluto provarlo perché volevo cambiare marchio, sempre ecologico, e c'era in offerta da Tigotà l'albero verde, però volevo provare qualcosa proprio del DM. Costa 2,79 euro, non era in offerta, era prezzo pieno. Sono 23 lavaggi, in questo formato qui, da plastica, insomma, riciclata, per intenderci, nel senso che con questo risparmiate la plastica, dei soliti flaconi. Un litro e mezzo, adesso prendo anche fiato perché ho iniziato a parlare, certificato Ecolabel, e vediamo se dice qualcos'altro qua. Detersivo per tutti i tipi di bucato, Nature, 23 lavaggi, efficace già a 20 gradi, aiuta a risparmiare energia, per tutti i tipi di capi, di targi bianchi in profondità, la formula scioglimacchia, garantisce un'igiene profonda, i tessuti vengono protetti per anti-ingreggimento, non dice altro, dermatologicamente testato, quindi non saprei dirvi, però ecco, vedete che ha la certificazione proprio Ecolabel, e anche qua c'è scritto qualcosa in tedesco, dice che praticamente la plastica è riciclata, è libero da, da degli agenti qualcosa, insomma, tensiattivi sono naturali, eccetera, eccetera, quindi speriamo dai, perché se mi dovesse piacere, non so se ci ritornerò subito, perché comunque, ci si lascia giù veramente sempre un sacco di soldi, perché anche questa volta ho speso l'altra volta sui 60, 65 euro, che stavolta 85, quindi voglio dire, però, se mi trovo bene, magari ecco, ne farò scorta più avanti, insomma, io ho detto, prendo la penna, no, che così cancello, il problema è che la penna ovviamente non funziona, quindi io che cosa vado a cancellare, niente, per fortuna ne ho un'altra, e ci siamo, poi ho preso, della balea, le salviette struccanti, bieppi, quindi non sono queste qui, se riesco a trovarle, perché ho preso una serie di salviette struccanti, quindi, penso non siano neanche queste, devo dire che, le sto finendo, proprio in casa, non ne avevo più, quindi ho fatto un po' di scorta di salviette struccanti, sono queste qua, balea, bieppi, e gli ingredienti sono fatti bene, l'avevo guardato apposta, e tocco ferolo, quindi è fatto bene, non contiene neanche tetrasodium dita, devo dire che i prodotti sono buoni, stavo cercando un italiano, salviettine, detergenti delicate, 5 in 1, al profumo di pompelmo, adatto a tutti i tipi di pelle, deterge la pelle, ed elimina il trucco waterproof, facile da usare, senza bisogno di acqua, delicato sugli occhi, senza alcol, formula con vitamina E, don'idratazione alla pelle, e sono queste qui, le ho pagate 1,29 euro, di 25 pezzi, poi ho preso, adesso l'ho anche persa la penna, così almeno le abbiamo fatte tutte, ho preso un sapone liquido, un'altra volta da 500 ml, perché quello all'aloe, praticamente l'ho quasi finito, 99 centesimi, quindi costano una miseria, ed è sapone liquido, al profumo di latte e miele, anche qui l'inci è fatto bene, se non sbaglio, perché si, ha un po' di urea, ma l'urea non è poi così, e ha il tretasodium glutamate di acetate, ma se non sbaglio, devo aver guardato sul biodizionario, e dovrebbe essere verde, sapete che tutte le volte io, non mi ricordo mai, questo tretasodium, tutte le volte tiro fuori, allora l'urea, comunque vi confermo, che sono due pallini verdi, è un antistatico, un mettante, quindi comunque due pallini verdi, va benissimo, avevo letto qualcosa sull'urea, però il biodizionario lo dà verde, quindi direi che siamo a posto, e adesso cerco il tretasodium, che tutte le volte me lo dimentico, tretasodium, però questo qui se non sbaglio è a verde, tretasodium, vabbè l'ho perso, ragazzi portate pazienza, però almeno vi dico una cosa corretta, guardate cosa sto guardando, invece di quello giusto, quindi sicuramente sono fusa, oggi sono fusa, abbiamo avuto un piccolo incidente, e quindi sono un po' stralunata, non lo trovo, ma sono sicura ragazze, che è verde, sono sicura a 90%, comunque eccolo qua, poi continuiamo, quindi portate pazienza, oggi sono un po' persa, poi ho preso dischetti di cotone, quelli maxi, all'interno ce ne sono 50, a 1,19 euro, sono questi qui, poi ho preso salvete detergenti, 3 in 1 da 25 pezzi, eccole qui, se non sbaglio, perché ne ho presi due pacchi, allora, questi da 25 pezzi, sì, perché questi qua ce ne devono essere meno, questo da 25 pezzi, sono le salvete struccanti, che ho appena finito, e mi sono piaciute veramente tanto, straconsigliate, costano 99 centesimi, tra le altre, guardo anche qua, perché se anche questo contiene il tetrasodium, sono sicura che, che allora è verde, no, questo non lo contiene, queste per esempio sono senza, alcune salvete ce l'hanno comunque, poi ho preso, perché comunque io a Verona, veramente lo trovo a 9 euro in offerta, se no a prezzo pieno parliamo di 15 euro, una volta su Groupon, l'avevo preso sempre a 8-9 euro in offerta, ho preso le due ricariche, della Velvet Soft, della Dr. Shull, queste qui, ricariche con cristalli di diamante, non so se ce n'è una, no, devono essere tutte uguali, sì, tutte e due così, sono quelle standard, le ho pagate 7 euro e 99, quindi secondo me, è una buona cosa, poi mi sono presa, Pucca Au Feminin, che è una tisana, che mi è stata consigliata, da pozione di bellezza, scusami se sbaglio il nome, giuro che però nell'info box vi lascio tutto, miscela biologica per infuso, ingredienti naturalmente senza caffeina, selezionati in modo etico, 100% biologici, contiene camomilla, sciatavari e radici, liquidizza e radici, ibisco, fiore, calendula fiore, barbabietola, arancia, rosa, fiore, mirtillo e vaniglia, praticamente è un tè, una tisana, da bere, almeno lei mi diceva, consigliato per le donne, nel momento appunto, premestruale e quant'altro, in quanto dice che va a rilassare, aiuta molto, ho voluto provarlo, tra le altre, proprio oggi sono di secondo giorno di ciclo, quindi sicuramente, me la preparo stasera, 4,49, poi ho preso la carta igienica, loro hanno molto, ho notato che comunque la loro filosofia, è proprio basata sulle cose riciclate, ce n'è, addirittura ho trovato le veline, se avete visto il video, dove avevo fatto la prima volta la spesa dal DM, che ci sono proprio le veline di carta riciclata, che a Verona non ci sono, e questo qua è il super pacco di carta igienica, proprio di carta riciclata, è anche certificata, praticamente sono, otto rotoli, e l'ho pagato 2,19 euro, tenete presente che di solito, quello della, della Natur qualcosa, sapete che compravo la carta riciclata, con il disegnino dell'albero, costa 1 euro, 1,10 euro in offerta, io ho visto che adesso 4 rotoli, non in offerta, non quelli maxi, quelli normali, costano 1,50 euro, quindi voglio dire, io qua con, 1 euro in più neanche, ho otto rotoli, poi mi sono ricomprata, un'altra confezione, di colluttorio, perché, mi piace veramente tanto, anche questo qua, l'aveva consigliato lei, vi lascio comunque, il link del suo canale sotto, che così andate a vedere, anche i suoi video, perché lei fa spesso, spesa di M, quindi compra molto, molto, molte più robe, così almeno date un occhio, e ho ricomprato, questo qui, perché mi piace tantissimo, proprio, lascia un buon profumo, in bocca di menta, 450 ml, per 3,49 euro, poi, il mio amoroso, maschietti, ascoltatemi, per i capelli, lui, guida, il muletto, quindi ha contato, tra smog, agenti atmosferici, polveri, e quant'altro, e, voleva uno spray, per comunque, oltre al gel, perché andasse ad aiutare, il capello, no? E, gli ho fatto prendere, dell'alverde, lo spray idratante, per capelli, allo zucchero di canna bio, ideale per capelli, fragili e spenti, eccolo qui, può essere che glielo rubi, anch'io, comunque, sono 150 ml, per 2,99 euro, poi ho preso, da fare un regalo, di Natale, ho preso, della Balea, il Calm Coco, praticamente sono, set regali, peeling per le mani, al profumo di cocco, con microgranuli, di origine naturale, crema a mani, al profumo di cocco, con olio di cocco, fantastico, non ho neanche guardato l'inci, l'ho direttamente preso in bassa, no, è fatto bene anche, la crema è fatta bene, e il peeling pure, perché ha vari burri, anche all'interno, quindi fantastico, questi qua, li ho pagato, sono due da 65 ml, 3 euro, e 95, poi ho preso, delle salviette umide, classiche, dice 70 pezzi, fermi tutti, fermi tutti, dove sono, le salviette da 70 pezzi, tra le altre, quando io non trovo le robe in italiano, divento matta, eccole qui, sono salviette classiche, di carta igienica, umidificata, sensitive, l'inci, ve lo guardo subito, è perfetto, perché ha tre robe in croce, con aloe, tutto, sono gettabili nel wc, sono queste qui, parliamo di una miseria di soldi, perché 99 centesimi, di 70 pezzi, poi ho preso, balea, salviette, struccanti, con acqua micellare, in teoria, dovrebbero essere, questi qui, senza alcol, sì, penso che siano queste qui, ce ne sono all'interno 25, quindi non sono queste, ma dove sono queste? No, e ragazze, forse ce la possiamo fare, ora della fine, perché ho uno stock di salviette, sono queste qua, sono sempre salviette struccanti, però contengono acqua micellare, 25 pezzi, 1 euro e 29, poi ho preso una candela, che dovevo fare un regalo, buonissima, profumato al rabarbaro e vaniglia, eccola qui, anche questa tra le altre, è certificata, guardate, per quanto riguarda, la certificazione per il packaging, che è riciclato 95%, e vediamo se dice, che ci sono degli ingredienti, qualcosa, se ci sono gli ingredienti, candela in vetro, rabarbaro e vaniglia, un pezzo, durata 32 ore, però, no, non ci sono gli ingredienti, mi sarebbe piaciuto, sapere, se magari, fossero, fatte abbastanza bene, anche queste qua, senza paraffina, comunque, l'ho pagata, una miseria, 1 euro e 99, ed è bella grande, poi, ho preso, un altro bagno schiuma, perché quello che sto usando, la vaniglia al cocco, è fantastico, di balea, doccia, lampone e lime, ho voluto provare, a 99 centesimi, di 300 ml, adesso lo annuso anche, vi stavo guardando l'inci, questo qui, non ha niente proprio, nel senso, non ha neanche il tetrasodium, non ha niente, sono fatti molto, molto bene, buonissimo, si sente un sacco, il lampone, fantastico, poi, mi sono comprata, per me, questo set, regalo inverno 2018, 3 euro e 99, di al verde, volevo fare un regalo, poi invece alla fine, ho detto, no, me lo tengo io, a mia auto, regalo qualcosa, allora, comprende, mi fanno morire, con questo tedesco, da per tutto, comprende, niente, perché non c'è l'italiano, c'è, allora, sette regalo, bagno schiuma, lozione corpo, e crema mani, questa è la crema mani, sono 75 ml, no, una profumazione neutra, pensavo fosse qualcosa, tipo di pino, sapete, quelle robe naturali, invernali, più che naturali, che sandabosco, così invece niente, questa è una crema corpo, mentre questo è un gel doccia, userò tutto il set insieme, comunque per il regalo, è carina anche la confezione, 3 euro e 99 ve l'ho detto, scusate, veramente oggi sono proprio, un po' persa, poi abbiamo, panni ultra sensibili, ve lo dirò dopo, perché non la trovo, eccoli qua, ce ne sono dentro 20, sono salviette umidificate, ultra sensitive, con bisabololo, lantuina e vitamina E, detergono la pelle, quindi anche queste qua, sono salviette struccanti, ne ho fatto veramente, un bel po' di scorta, perché ne consumo un sacco, 20 pezzi, 1 euro e 29, poi ho preso, crema mani alla camomilla della balea, l'ho ricomprato un'altra volta anche, l'altra volta l'avevo preso, l'ho ricomprato, perché 69 centesimi 30 ml, ne avevo presi due pacchi, uno l'ho già dato alla mia insegnante di country, perché ragazze fate un figurone, perché l'inci è fatto bene, e poi adesso col freddo, le creme mani vanno a buso, piccoline in borsa, sono perfette, e le pagate un tubo, poi dischetti di cotone maxi, 79 centesimi, eccoli qua, un altro pacco, poi ho preso, una crema piedi altitri, che l'altra volta l'ho data al mio moroso, e se la sta portando in giro, tra il lavoro e quant'altro, effetto rivitalizzante, per piedi affaticati, gambe gonfie, con estratto di, pampini di vita rossa, e vitamine, pampini, 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 boh, comunque, tetrasodium e glutamate di acetate, allora vi confermo, che è verde, perché me lo ricordo, che avevo già guardato l'altra volta, quando era brunico, quindi confermato al 100%, non ve lo dirò più, 1,79 euro di 100 ml, poi ho preso, devo fare un regalo, una tisana, echinacea, se lo cerco in italiano, forse è meglio, comunque, eccola qua, preparato per infusa, base di mentastro verde, tè verde, al gusto di acerola, con vitamina C, e c'è anche chinacea, è fatta benissimo, perché gli ingredienti sono, mentastro verde, 23%, tè verde, citronella, 19%, chinacea, 12%, barbabitola rossa, foglie di mora, dolci, ginseng siberiano, radice di chinacea, un 3%, vitamina C, acerola, succo di acerola, ingranuli, e stop, quindi è fatta molto bene, ne ho prese due, perché una me la tengo, e una la regalo, e le ho pagate, 1,79 euro, poi ho preso, da fare un altro regalo, una tisana tranquillante, e relax, sempre 1,79 euro, eccola qui, questo è preparato per infusa l'erbe, con melissa, rooibos, e foglie di passiflora, d'effetto tranquillità, e relax, ragazzi, cioè se avete un DM vicino, con poco, fate dei super regali, perché sono prodotti buoni, quindi, poi, ho preso, che devo fare un regalo alla mia collega, che sono mesi che me lo chiede, un mascara di essence, non volevo questo, ma essence, è stato preso veramente, dalle cavallette, anche lì, io sono andata soprattutto perché volevo la palette, quella, occhi, di essence, in versione natalizia, ma ragazze, era stata fatta fuori, anche lì, comunque ho preso questo qui, speriamo sia buono, io non l'ho mai provato, a 2,99 euro, poi, crema mani, al melograno, ne ho presi altre due, per fare appunto, altri regalini, eccole qua, sempre in formato piccolo, 25 ml, mentre quelli alla camomilla sono 30, 79 centesimi, ho voluto provare, una base per ombretto, di al verde, perché appunto, sapete che mi trucco tutti i giorni, e i siliconi, tutti i giorni, non sia il massimo, allora ho detto la prova, e vediamo se dura, ed è un primer per occhi, a 2,99 euro, non ho neanche guardato gli inci, mi sono addirittura, subito fidata, perché al verde, da quello che so, è una marca fatta bene, e infatti, ottima, non costa neanche tanto, perché 2,99 euro, mi sa che costa di più, quello di Essence, poi, Vivident, ho preso delle caramelle, e delle ciung, se riesco a trovare, ragazzi, questo video vi durerà una vita, sappiatelo, eccole qua, delle ciunghe, da mettermi in borsa, senza zucchero, ma poi tra le altre, ci sono in giro, senza zucchero, ho avuto fortuna, per trovarlo lì, 75 centesimi, mio amoroso, si è preso, gli scovolini per i denti, 6 pezzi, a 1,99 euro, perché dice, che a Verona, costano di più, poi ho preso, un'altra crema giorno, alla rosa, questa qua, me la sono presa per me, è molto idratante, però volevo provarla, per la sera, perché adesso ho la pelle, che la sento proprio tirare, alla sera, e 79 centesimi, qua dice, per giorno, ma, per la mia pelle, forse è meglio di no, poi, cosa abbiamo, al verde, mascara, push me bet, eccolo qui, questo è per me, ho voluto provarlo, era in offerta, a 3 euro, quindi ho detto, per un centesimo in più, rispetto a essence, lo proviamo, anche perché appunto, avevo sentito, che al verde, aveva degli ottimi inci, anche per i trucchi, se è così, voglio provare, anche i fondotinta, poi, balea, struccante, rigenerante, sono 10 salviette, 3 in 1, a 49 centesimi, quindi, una miseria, voglio provarle, anche perché, così piccole, sono comode, da portarsi in viaggio, poi, sempre dell'al verde, ho preso, repair punte, 2 euro e 99, praticamente, è un fluido, per le punte, con avocado, avvocato, avvocato, cioè, devo andare a letto, di filata, avocado, e burro di karité, sono 30 ml, quindi, è un prodotto, veramente piccolino, però, va messo solo, sulle punte, e 2 euro e 99, poi, ho preso, delle caramelle, senza zucchero, senza sciroppo, di glucosio, sono fatte benissimo, zucchero di canna, acqua, miele, millefiori, pectina, quindi, perfette, al miele, c'erano di vari gusti, io, intanto, ne provo uno, 30 grammi, 1 euro e 75, ho preso, il tic tac all'anguria, 99 centesimi, questo invece, è più industriale, di quello lì, però, l'anguria, volevo provarle, mai provate, ma, il pezzo forte, dell'acquisto, parlo di, una super cosa, a 12 euro e 90, praticamente, l'ho pagato, metà, e, signori e signore, parlo di lui, il mio primo, calendario dell'avvento, di solito, a parte quello, di cioccolato, di dolcetti, così, non ha mai, giuro mai, in 28 anni, comprato, ricevuto, un calendario dell'avvento, fatto così, l'anno scorso, l'Elena, me l'aveva fatto, una mia amica, che trovate anche lei, su YouTube, vi lascio il link, di tutte le ragazze, che ho citato, in questo momento, cioè due, e, e me l'aveva fatto lei, quindi all'interno, aveva messo un elastico, un ombretto, uno smaltino, però, fatto proprio, e confezionato, così, è il mio primissimo, questo è l'interno, dietro, sono tutti i prodotti, che ci sono, e, volevo fare un video, dove comunque, lo apriamo insieme, non so se resisto, perché adesso, devo andare, quindi, non so, probabilmente, stasera, già aprirò le cartelle, fino a, stasera, e domani, magari apriremo insieme, la cartella, che riguarda domani, e vi faccio vedere, i prodotti che ho trovato, perché sono come i bambini, non riesco a resistere, ragazzi, questo è quanto, scusatemi, sono un po' fusa, appunto, perché, niente, ci sono venuti adosso, praticamente, finché andavo al lavoro, e, vabbè, pazienza, niente di che, siamo tutti bene, però sapete quando siete un po' fusa, e basta, vado, ciao!